Cari proprietari, ciao a tutti, buon pomeriggio. Oggi volevo parlarvi di spondire l'artrosi, ma poi ho cambiato idea perché mi sono imbattuta sia su Instagram che su Facebook su un oggetto assurdo. Quando l'ho visto ho detto, no vabbè dai, chi lo compra? Si capisce che è una cavolata assurda. E invece dopo, su un gruppo Facebook, mi sono imbattuta su alcuni di voi proprietari che se lo consigliamo una vicenda. Ho detto, fermi tutti, faccio un video, stoppiamo questa cosa sul nascere perché è pericolosissimo. Qual è l'oggetto del misfatto? Adesso vi metto una foto che si commenta da sola. Visto che roba? Allora, ovviamente una persona che ha un minimo di conoscenze anatomiche di base capisce che questa è una cavolata pazzesca. Chi ha inventato e brevettato il prodotto, ce ne sono diverse marche in commercio, cosa ha pensato? All'inizio aveva pensato di fare questo zaino per i cani normali, poi ha visto che non aveva senso mettere un Jack Russell dentro uno zaino perché sono cani super vivaci, super camminatori, che senso ha mettere un cane vivace in un zaino? E quindi è arrivato il genio della truffa che ha detto, vabbè, pubblicizziamolo per i brachicefali, bulldog francesi, carline, che fanno tre passi in una pietra e hanno la lingua lunga, pubblicizziamolo per questi cani. Scusate se mi scaldo, ma per me è talmente intuitivo che sia un oggetto assurdo, che non riesco a mantenere la calma. In realtà mi rendo conto che per chi non conosce l'anatomia di questi cani, la fisiologia e i loro problemi soprattutto di salute, forse non lo ritiene così pazzesco. Vediamo quindi insieme un attimo quali sono i punti critici di questo strumento. Allora, innanzitutto il cane è nato per stare in posizione quadrupedale e non in posizione retta, ok? Non sono dei bebè, non sono neanche degli uomini. Sono animali nati, costruiti da madre natura, che è una che ne sa, per stare in posizione quadrupedale, ok? E già qua dovrebbe nascere il dubbio che forse appendere un cane e tenere un'imposizione verticale non è proprio la mano dal cielo. Per un brachicefalo la situazione sicuramente si complica. Voi sapete già, quasi tutti, spero che lo sappiate, insomma, ho scritto articoli, fatto post, per chi mi segue sicuramente la patologia è chiara, soffrono di sindrome brachicefalica. La sindrome brachicefalica, raccontandola molto in breve, è un'ostruzione dei VR superiori data dai tessuti molli rindondanti del brachicefalo. Cioè il brachicefalo è un cane che è stato preso e compattato, lingua, palato e tutta la zona della gola, diciamo, è quella di un cane di taglia più grande, compresso, e quindi soffocano. Proprio per questo motivo hanno questi problemi respiratori. Voi potete ben capire come un cane di questo tipo, con questa conformazione, se già in posizione quadrupedale ha dei problemi a respirare, se noi lo mettiamo in posizione retta, insaccato così, con tutti i tessuti molli che comprimono sotto la gola, proprio è una garanzia per metterlo in difficoltà. Cioè proprio vogliamo ucciderlo questo povero brachicefalo. E quindi già questo è il primo motivo. Inoltre andiamo ad avere un'imbragatura che va a comprimere su un torace che già di per sé ha una conformazione diversa su tutti gli altri cani, quindi è appiattito in senso esterno-dorsale e non latero-laterale, quindi ha questi toraci a botte che già danno dei problemi e compressione sul cuore. Un altro problema da non sottovalutare assolutamente è la conformazione delle vertebre di questi cani. Come sapete sono fragilissimi, hanno una testa enorme e pesante, su un collo fragile e delicato a livello di ossatura, vertebre molto delicate, infatti sono notevolmente predisposti alle ernie del disco. Se voi trasmette un cane che è abituato ad avere un movimento orizzontale della colonna e che è già così ernia, me lo mettete in verticale e fate questo movimento. Immaginate che questi siano i dischi vertebrali in verticale uno sopra l'altro, abbiamo questo movimento a ogni passo, cioè c'è i dischi proprio che soffrono e che rischiate ancora maggiormente di andare a consumare. Ultimo problema, e poi giuro non vi terrorizzo più, ce ne sarebbero altri più fini, ma lasciamo perdere, questi sono proprio i tre problemi principali, quindi l'ultimo è il vomito barra rigurgito che questi cani hanno costantemente. Allora, inoltre questi zaini vengono utilizzati anche in macchina. Ma immaginate un cane che ha la nausea e che sono un cane con delle gastriti, con dei problemi gastroenterici, non siamo qui a dilungarci, ma quasi tutti vomitano e hanno rigurgito. Cioè, ve l'ho immaginato un cane di questo tipo che già non respira a rigurgitare da dritto, cioè in posizione retta? Cioè, vogliamo ucciderlo. Cioè, è proprio un sistema brevettato per uccidere i bundofrancesi. Cioè, quindi non saprei cos'altro dirvi, ok? È ovvio, è banale che questa cosa non può funzionare. Non so se sono riuscita a farvi percepire effettivamente la portata di queste problematiche e di questa posizione nel cane, soprattutto nel brachicefalo. Spero che, almeno di avervi fatto ragionare sul problema, non è necessario prendere uno zaino per portare il cane. D'altra parte, se volete, abbiate a fare del trekking spinto, non vi compravate un brachicefalo, è come comprare una Ferrari e voler andare a fare fuoristrada, c'è qualcosa che tocca. Quindi, mi raccomando, questi cani sono cani nati, malformati, con delle gravi problematiche sottostanti, non sottovalutatele, soprattutto per un verso di avere lo zainetto di moda, ok? Mi raccomando. Quindi, vi aspetto, come sempre, su amicaveterinaria.com, che è il mio sito, dove trovate tutti gli articoli informativi sulla salute, vi invito ad andarvi a riguardare l'articolo sulla Baos, sul vomito e rigurgito nel Bulldog.